Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato al melone. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa un minuto. Gli ingredienti sono yogurt congelato, melone congelato e zucchero. Andiamo via alla ricetta. Mettere nel boccale lo zucchero. 10 secondi, velocità 10. Unire il melone e lo yogurt. 20 secondi, velocità 7. E altri 20 secondi, velocità 5. Il gelato è pronto. Adesso andiamo a metterlo in una coppetta. Gelato al melone. Grazie e alla prossima ricetta.